Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog a Roma. Allora, stiamo un po' passettando. Comunque ragazzi, il Zaguala è chiuso per Fede e è aprirlo il 31 agosto. Solo che io non ho fatto questo e quindi non ho potuto comprare gli squishy. Sì, vabbè, adesso sto andando alle cose storiche. Vabbè, mi rilascio al video, piaccio vedere tante cose storiche e buona visione. Allora, ragazzi, adesso stiamo andando alle fontanelle. Ecco, guardate che acqua. Ah, è gelida! Che bel piccione! Ciao! Aspetta, c'è la pubblicità degli smarts davanti al Duomo? Sì, boom! Ragazzi, qui hanno messo una macchina militare. Andiamo vicino e ve la faccio vedere. Perché la posizione si segue? A saperlo mi portavi i dollari di cambiare. Non ce l'hai del portafoglio? Ragazzi, ha l'impervisa... No, mi so benissimo. Mi dovrei essere ripresi i miei militari, quello mi ha detto. Però voi ve lo faccio vedere. Che belle! Che bello portone! Gnam gnam! Che bello portone! Che bella! Che bello mi piacciono gli occhiali! Davanti alla chiesa! Altro venditore con gli occhiali! Una vetrina di Elisabetta Franchi! Mamma, chi è questo? Mamma, chi è questo chiatone? Giotto. Un cartone. Come ciò? Le soldi sono 50? 50, 100. 500. Ve lo faccio vedere. 50, non so se leggete. 50, 100. Siamo in un viore letto. E le altre le volte siamo vicino alla vetrina di Elisabetta Franchi. Oddio mamma, guarda il cappotto, guarda è bellissimo quella connellina, sembra un vestitino, qui non mi piace, questa è bellissima. Scusate, stoppavo, il mio padre mi chiedeva le cose, io dovevo stoppare, fa un frisco all'arizzo, guardate quanto è bello, quante cose belle.